Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più la ami. Allora io mi occupo di analisi dati di onde gravitazionali e lavoro a Roma alla Sapienza, sono un membro della collaborazione Laigo Virgo. Io mi sono laureata a Lecce nel 2004, poi ho scelto di fare il dottorato di ricerca a Trento su onde gravitazionali. La mia tesi di laurea invece verteva su altri argomenti, su simulazioni in realtà di atmosfere marziane, quindi tutto quello che c'è sul pianeta Marte, quindi dicevo poi mi sono dottorata a Trento su un argomento di ricerca che riguardava la fisica e le onde gravitazionali e poi ho deciso di andare nel posto molto caro ad Einstein, dove egli stesso ha studiato, che è l'Istituto per la Fisica Gravitazionale intitolato Max Planck e in realtà sono i due gli istituti presso i quali sono stata, uno quello di Golm e l'altro quello di Hannover, dove ho trascorso circa sette anni complessivamente della mia vita e poi sono rientrata con un progetto di ricerca intitolato Ritelevi Montalcini, rientro dei cervelli, insomma a Roma dove adesso lavoro. E il messaggio che mi sento di lasciare è di cercare di seguire sempre i vostri sogni, anche se questi vi possono portare apparentemente lontano da casa, però penso che sia qualcosa che non ha prezzo, insomma raggiungere i propri ideali, quindi questo è assolutamente il consiglio che mi sento di dare, quindi non ripiegate su qualcosa solo per rimanere qui. Invece potete cercare di ampliare i vostri orizzonti andando fuori e poi riportare qui quello insomma che avete appreso. Radio 00. Radio 00. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Radio 00. Radio 00. Grazie a tutti.